Oggi ci sono 88 bambini, stiamo ancora in situazioni di sperimentazione. Questa esperienza funziona, funziona perché non ci lascia da soli. Aiutateci a cambiare le cose che devono essere cambiate. Signora buongiorno! Perché per funzionare qui c'è bisogno di energia elettrica costante, prima connessione ad internet, anche quella con le cento per cento di disponibilità e poi anche la parte più fisica dove si vanno a mettere poi i sistemi. Qui siamo in un luogo di manifattura tradizionale ripensato totalmente per il futuro, per dire che quando ci sono le idee la gente va avanti. Io sono ingegnere, quindi progetto tutto quello che vede qui dentro l'ho. Come questa, fino a pochi mesi Papui non c'era nulla e adesso è diventato un punto di riferimento della nostra città. Buonasera, scusate Riccardo, buonasera. Chiaramente poi le ragazze possono inventare e costruire il personaggio in altri modi. L'obiettivo è di sviluppare non solo competenze ma anche attitudini. Comunque non li crei creando investimenti giganteschi, ma li crei mettendo idee. Dove un cinque? Grazie. Come si valorizzano i paesaggi particolari di questo paese e le economie particolari di questo paese. Vi dico che il programma del PD lo scriveremo ascoltando le persone.